Pensate davvero che per realizzare un'immagine di food si debbano inserire un sacco di elementi complicati e avere un set complesso? Vediamolo in questo video. Bene amici, siamo arrivati a un nuovo video, una nuova pillola sull'analisi delle mie immagini. Come dico sempre sto vedendo un grosso riscontro dal punto di vista dell'analisi delle immagini perché mi rendo conto che è come avere un po' un faccio a faccia con gli allievi quando mi fanno le domande e mi chiedono delle cose in più sulle loro fotografie. Quindi al di là della realizzazione del set, dell'impostazione delle luci, quindi le cose più tecniche, in questo caso vediamo come analizzare appunto le immagini per capire, imparare anche a leggerle. Allora la prima cosa che succede in questi casi quando si inizia una fotografia di still life, quando si inizia con lo still life è di riempire il set. Perché? Perché a differenza di altri generi la fotografia di still life è vuota, il set è vuoto, dobbiamo impostare le luci, dobbiamo impostare il set, dobbiamo inserire noi i nostri soggetti. Per questo che a differenza di tante altre tipologie di immagine e di altri generi, qui bisogna avere l'idea ancora più chiare e bisogna avere in testa un progetto, qualcosa, perché se no molto probabilmente si arriva a creare delle immagini un po' raffazzonate, cariche di soggetti, anzi senza soggetto perché se si mettono dieci elementi non si sa poi qual è il soggetto principale. Con difficoltà nell'impostazione dell'illuminazione e via dicendo. Quindi la cosa importante che dico sempre, ma voglio spingermi oltre per far capire ancora di più questa situazione è cercate di lavorare con meno prodotti possibili, con meno oggetti possibili. Non solo per un discorso di impostazione del set o comunque di gestione dei soggetti e delle luci, ma perché ci si può dedicare meglio a un solo soggetto, a una sola situazione, lavorando meglio sia dal punto di vista tecnico che da quello del messaggio. Vi faccio vedere una delle mie foto uniche, diciamo questo è un close up, è una macro per lavorare con questa immagine qua. Allora, per lavorare in questo modo, questa è una nocciola, sapete che è molto piccola comunque, quindi è una macro spinta perché io ho lavorato col mio obiettivo macro, ma in questo caso, volendomi avvicinare ancora di più perché il mio macro non è un obiettivo uno a uno e quindi non si avvicina, non ha lo stesso rapporto del soggetto, in questo caso ho preso una lente, quindi mi sono adoperato, ho creato qualcosa di particolare, ho sperimentato per andare oltre, ho preso una lente di ingrandimento e l'ho posta davanti al soggetto, quindi tra il soggetto e l'obiettivo, ovviamente l'obiettivo su cavalletto, ho cercato di fissarla con un elastico per farla stare in un punto dove prendesse completamente il fuoco, perché in questo caso, quando si mette una lente di ingrandimento, il fuoco è centrale e lateralmente tende a sfocare, un po' come fanno le lenti close up, quelle che si acquistano online e si avvitano all'obiettivo per trasformare un macro, un obiettivo classico in un macro che quando macro non è, perché in realtà sono delle semplici lenti di ingrandimento che però sfocano le parti laterali. Allora io, siccome questo soggetto era molto piccolo, mi sono avvicinato con questa lente per avvicinarmi ancora di più e dare ancora più tridimensionalità e nitidezza all'immagine. Perché vi racconto questo? Vi racconto questo perché se l'avessi fatto con un cestino di nocciole, questa cosa non sarebbe successa, non mi sarebbe venuto l'idea di andare a lavorare su un concetto del genere, perché avrei lavorato sull'intero cestino, su magari delle foglie, la texture dell'appoggio, una luce dietro e tutta una serie di soggetti che creano una composizione. Quindi avrei composto il mio fotogramma con una serie di cose e non sarei andato oltre. Avrei utilizzato la mia solita luce, magari con qualche riflettente e quindi non avrei sperimentato. In questo caso invece non solo rivolgendomi a voi principianti o comunque a chi inizia questa cosa, lo still life serve. Serve perché andate a lavorare su un concetto che è quello di gestire un solo soggetto, come in questo caso la nocciola. Ma in più vi spinge a sperimentare, quindi a utilizzare magari una tecnica che non è scritta sui libri, ma è vostra perché avete imparato, volete imparare, volete andare oltre per capire come realizzarla e quindi grazie a questo riuscirete magari a fare qualcosa di più. Quindi io con l'obiettivo non uno a uno sono riuscito a fare una macro spinta e ho lavorato molto bene, credo, sulla nitidezza, dando anche un bel effetto sfocato perché era una cosa interessante. Analizziamo anche un'altra immagine che è pur sempre una macro. Questa è un'altra tipologia di macro perché innanzitutto sono due illuminazioni diverse, perché quella della nocciola è con luce continua, quindi con un led diffuso e quindi con addirittura un cartoncino argentato. Mi ricordo ancora il set per andare a illuminare questa parte perché è stata molto complessa, soprattutto la parte dell'illuminazione perché, come vi dico sempre, più è piccolo un soggetto, più sarà difficile illuminarlo perché abbiamo bisogno di modificazione di luce molto più certosina, no? Perché dobbiamo portare una piccola quantità di luce in una piccola area di soggetto. Quindi è stato decisamente più difficile e mi ricordo appunto che ho utilizzato questa luce continua sulla sinistra con un pannellino argentato per riempire le parti centrali. Di qua invece abbiamo un flash, una luce flash. Qua l'ho fatta perché stavo facendo una serie di immagini, stavo realizzando una serie di immagini con il miele e quindi avevo bisogno di illuminare il miele, quindi congelarlo. Allora poi ho creato anche questo close-up, questo close-up che non è altro che un dosatore in legno, visto che questo dosatore in legno è gentilmente regalato da una mia follower, una persona che mi segue, è un bellissimo legno in ulivo e aveva questa bellissima venatura, questa texture, allora ho deciso di schermarlo, no? Di riempirlo di miele, creare questo cappotto di miele, e illuminarlo in questo modo e andare ad enfatizzare quella che è la texture del nostro dosatore in legno. Però anche qua non ci sono grosse, tanti soggetti o comunque chissà quale impostazione di set, c'è semplicemente un barattolo, la cosa più lunga è stata l'inquadratura e se vogliamo un po' il movimento per creare queste bolle che inizialmente non si creavano e poi muovendo velocemente il miele, grazie anche al flash, perché quel flash si può congelare anche muovendo velocemente in questo caso, ho creato queste bollicine sia all'interno del miele, quindi hanno creato questa texture molto particolare, hanno creato una buona sfocatura e anche qualche bolla all'interno del miele sopra il dosatore. Il resto l'ha fatto poi il miele stesso con la sua lucidità e con i suoi riflessi, ecco quindi questo è per dirvi che non ci vogliono grossi impostazioni di set e tantissimi soggetti per realizzare una buona immagine. E poi vi ripeto ragazzi, una buona immagine si può realizzare, innanzitutto si può avere un buon soggetto, un buon effetto finale, come vedete qua, con niente, perché alla fine con un barattolo di miele e un dosatore, oppure con una semplice noce spaccata a metà, si può realizzare qualcosa veramente di unico, di particolare, di vostro, addirittura stampabile e condivisibile dappertutto. Due perché non avete grosse pretese e non dovete utilizzare chissà quale diffusore, chissà quale luce, chissà quale flash, chissà quale pannello, magari trovate qualcosa in casa, andate nella vostra dispensa, nella vostra cucina, prendete un prodotto e vi mettete a lavorare, a giocare sul macro o sul close up, quindi io vi consiglio vivamente, se volete iniziare a creare veramente qualcosa di interessante, iniziate con i macro, o se non avete un'ottica macro, iniziate con un bel close up, come può essere in questo caso qua, è vero che questo è anche comunque un macro, perché io utilizzo sempre il macro, però non è così spinto come nella fotografia della noce. Detto questo, spero che anche questa breve analisi del lunedì vi possa essere stata utile, e se vi è piaciuta mettete un like, condividete, scrivete pure sotto se avete ulteriori domande per come realizzare una cosa del genere, magari per avere più dettagli, per approfondire la cosa, e noi ci vediamo al prossimo video con Still Life ed Intorni. Alla prossima!